Io devo sperare che non prendo l'ultima carta per fare la scala, capito? C'è una misi sod, qualcuno avrà scala, sicuro Non c'è andare perché è capace se prendono gli altri Sì, ma io penso che non vinco Sì, ma io penso che non prendo l'ultima Sì, ma io penso che non prendo l'ultima